Era solo per introdurre brevemente il brano che viene ora, che invece è un brano decisamente più serio è una composizione di Claudio Rodati, sentito da Fidel e vi fa soltanto capire dove ci porta come tipo di atmosfera mentre in questo brano ci sarà un solo di percussioni, io vi farò sentire anche questo strumento qua che ho davanti, luminoso che è un jambè africano, quindi non c'entra nulla ma lo suona Grazie a tutti 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 Grazie a tutti